Peggy 16 Siete fortunati a vedere questo posto. È sacro. Proibito agli stranieri. Voglio risposte. Nessuno doveva tornare qui prima che fosse di nuovo sicuro. Voglio estirpare tutto il male che ha invaso la città sognante. Siete fortunati. C'è una creatura immensa nel cuore di questo luogo. C'è in ballo il destino della città sognante. Destini 2. I Rinnegati. Disponibile dal 4 settembre. Rinota ora e ottieni le scorte esotiche di Cade.